Buonasera a tutti e benvenuti. Ma davvero non ci posso credere. Rumors, Stati Uniti, Hillary Clinton si prepara a candidarsi di nuovo nel 2020 per la corsa alle presidenziali americane. Davvero non ci posso credere. Uno perché mi sembra un po' a volte ritornano quel film, lasciando perdere gli zombie, ma insomma il ritorno di Hillary Clinton in politica per nuovamente tentare la scalata alla Casa Bianca. Ora è una notizia che ha un po' del clamoroso negli Stati Uniti, potrebbe essere anche una fake news, ma comunque chi ce ne assicura dalle pagine del Wall Street Journal sono Mark Penn, che è un primo consigliere molto vicino a Bill e a Hillary, consigliere dal 1995 al 2008, quindi persona assolutamente seria e affidabile, ed anche un certo Andrew Stein, presidente della New York City Council democratico. E quindi è una notizia da valutare. Davvero mi sembra proprio triste la cosa, non perché ce l'abbia con Hillary Clinton, non sono repubblicano, democratico, sono italiano, non entro in queste vicende, ma mi sa di stantio il tentare di. Anche perché, a parte il fatto si parla di un alto gradimento di Hillary Clinton, pare tra i democratici, 75%, non ci credo, perché secondo me ci sono elementi ed esponenti del Partito Democratico, la Warren nelle donne e da altri tra i maschietti assolutamente vocati, votati a presentarsi quali antagonisti Presidente Trump nel 2020, con tutta la voglia, la freschezza, la giovinezza, la pulizia morale e intellettuale di voler fare qualcosa di nuovo per il Partito Democratico. Affidarsi a dei dinosauri che ne hanno viste, fatte di tutti i colori, nella loro vita pluriennale all'interno della politica americana, non mi dà francamente un'idea di nuovo, un'idea di interessante nei confronti dell'attuale Presidente Trump. Pare ci sia un sentimento anche di vendetta se non di rivalsa e già partire per una vendetta e per una rivalsa dopo aver perso nel 2016 non mi piace, non è un buon modo di fare politica, la politica non la si fa per un interesse personale o per una vendetta personale, lo si fa magari perché si intende cambiare qualcosa ma con questo spirito. Non si va a pensare perché qualcuno dice Hillary non permetterà che una umiliante sconfitta nei confronti di un dilettante possa mettere fine alla sua carriera, cioè sono stata sconfitta da un dilettante e voglio riprovarci e voglio assolutamente far vedere chi sono. Non è mai bello partire in questo modo, è assolutamente discutibile il tutto e il segno è quello forse dell'incapacità di un partito nel 2020 di trovare dei candidati proponibili e questo sarebbe assolutamente triste. Ovviamente si parla di una Hillary Clinton che dovrà un po' reinventarsi e quindi dovrà raccogliere ma lo può fare perché chiaramente sono 30 anni che ci prova e quindi ovviamente il tentativo sarà quello di far vedere una Hillary più di sinistra, più liberale, magari a capo del movimento Me Too, le donne, le moleste sessuali, quindi argomento contro il Presidente degli Stati Uniti, le armi, argomento per una stretta sulle armi, l'immigrazione, argomento per tutto ciò che sta facendo il Presidente Trump, il muro e tutto quello che poi ne deriva, sarà molto di più tra la gente, si farà vedere molto più alla mano, dico io, ma non ci crediamo, magari perché non si diventa alla mano perché lo si decide a tavolino, o sei alla mano con la gente o non lo sei, perché se no anche questo potrebbe sembrare piuttosto pusticcio. In ogni caso si parla di un team di donne professioniste importanti, capaci e si parla anche di una raccolta, di un comitato che già sta raccogliendo denaro per organizzare la campagna elettorale chiamato Onward Together, cioè avanti tutti insieme, sulla scia di uno slogan elettorale importante e via gli Obama e via il marito Bill dai piedi, nel senso che via figure che possono comunque far pensare all'elettorato così a degli influssi o delle influenze o a dei motivi tali da così ancora non votare nuovamente la candidata Hillary Clinton. Benissimo, vediamo, lo può fare, lo farà, sarà una vecchia campagna elettorale evidentemente che non porterà poi così un'area di freschezza o di qualità in quelle che potranno essere le prossime presidenziali americane, anche perché ribadisco con tutto il male che si possa dire del Presidente Trump, ma l'America produttività alle stelle, economia che funziona, disoccupazione che cala, difficile poi contrastare questo con vecchi dinosauri della politica. Grazie.